Ben trovati, ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it quest'oggi parleremo di una funzione molto 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 semplice ma allo stesso tempo molto 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 utile parleremo del match frame una funzione che è presente in Adobe Premiere ma che qualunque montatore video anche coloro che lavorano in Avid Media Composer conoscono molto bene perché è una funzione utile che qualunque montatore utilizza a prescindere dal software di editing video prima però vi ricordo come sempre il mio sito internet www.fabioambrosi.it sito dove troverete l'elenco di tutti i tutorial fatti fino ad ora troverete tutte le lezioni del corso di montaggio video con Adobe Premiere con anche le elencate le lezioni che faremo nelle prossime settimane se non trovate ancora delle lezioni non vi preoccupate arriveranno nelle prossime settimane iscrivetevi chiaramente anche a questo canale youtube per non perdere i prossimi tutorial e bando alle ciance iniziamo subito con la lezione di oggi dunque dicevamo match frame cosa vuol dire match frame in italiano intanto? vuol dire corrispondenza fotogramma o almeno così lo traduce Adobe in italiano in realtà match sta un po' per combaciare ecco far combaciare due fotogrammi match frame ed è un po' quello che noi andremo a fare perché a cosa serve il match frame? ipotizziamo di avere una clip nella nostra timeline ecco io faccio l'esempio prendo ecco attivo anche il video prendo questo fra un frammento di una vecchia di un vecchio tutorial che avevo fatto lo inserisco nella timeline eccolo qua ben trovati ben trovati ad un ecco qua il mio solito inizio ben trovati e abbiamo questa clip chiaramente con l'audio e con il video perfettamente sincronizzati ed è tutto perfettamente in ordine ma ipotizziamo che per qualunque motivo io non abbia più l'audio e ipotizziamo che per qualunque motivo io nella clip originale non ho nemmeno più il punto di attacco e di stacco cavolo cavolo in un contesto come questo dove non ho neppure un labiale come faccio ad essere sicuro di andare a ripescare l'audio corretto e metterlo correttamente sotto al video originale è impossibile ma grazie alla funzione match frame questa cosa diventa quantomeno abbordabile ovvero in cosa consiste il match frame il match frame è una funzione che mi permette di andare a pescare esattamente il fotogramma in cui io mi trovo nella timeline nella clip sorgente in altre parole io posso posizionarmi nella timeline su un determinato fotogramma premere il tasto F F di Firenze e vedete che automaticamente Premiere mi va a cercare nella clip originale nella clip sorgente il fotogramma in cui io mi vado a trovare e addirittura fa un'altra cosa Premiere mi inserisce un in e un out per fare in modo che io volendo ecco come in questo caso ho perso l'audio va bene posso andare a recuperare esattamente il pezzettino di audio che avevo smarrito ben trovati ben trovati ad un tutto questo con un click con il tasto F della vostra tastiera oppure andando sul menu sequenza e scegliere la voce corrispondenza fotogramma eccola qua nella prossima lezione nel prossimo video tutorial impareremo come nidificare le sequenze ovvero come inserire una sequenza dentro un'altra sequenza e vedremo anche perché è così utile fare quello che viene chiamato nesting ovvero appunto l'annidamento di una sequenza dentro un'altra sequenza ne parleremo nel prossimo tutorial per il momento grazie vi ricordo www.fabbiambrosi.it per vedere anche tanti altri tutorial e ovviamente se potete se vi va registratevi iscrivetevi a questo canale youtube ciao e grazie alla prossima grazie a tutti